cari figli ascolto il vostro grido e le preghiere per la pace da anni satana lotta per la guerra perciò dio mi ha mandato in mezzo a voi per guidarvi sul cammino della santità perché l'umanità è al bivio vi invito ritornate a dio e dai comandamenti di dio per stare bene sulla terra e per uscire da questa crisi in cui siete entrati perché non ascoltate dio che vi ama e desidera salvarvi e guidarvi verso la vita nuova grazie per aver risposto alla mia chiamata grazie madre grazie per questo messaggio così potente così regale così altamente spirituale da anni satana lotta per la guerra perciò dio ti ha mandata in mezzo a noi e tu ascolti il nostro grido e la nostra preghiera per la pace quella pace che deve nascere nel cuore di ognuno di noi non è solo la pace fra i popoli ma è la pace del nostro cuore nelle nostre famiglie quella pace che solo dio sa dare quella pace che entra nelle viscere dove viene fecondata dal dio dell'amore vi saluto vi abbraccio la vostra piccola matita del cuore grazie a tutti grazie a tutti